Compie vent'anni l'entrata in vigore della legge per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, approvata nel 1996 grazie a un milione di firme raccolte. Una legge che ha rappresentato uno spartiacque nella lotta al crimine organizzato. Oggi in Italia sono oltre 500 le realtà che gestiscono quelle terre e quegli immobili per trasformarli in luoghi di lavoro, formazione, cultura, accoglienza e servizio alle persone deboli. In CGL Toscana, per celebrare il ventennale, si svolge un seminario con Libera, Banca Etica e altre sigle dell'antimafia sociale. A vent'anni per certi aspetti anche entusiasmanti perché noi abbiamo visto rifiorire attività, realtà sociali, abbiamo visto cooperative tipo B rimettere a lavorare persone che erano totalmente marginalizzate, abbiamo visto realtà in cui si è recuperato la dignità di un lavoro secondo gli ambiti della legge, abbiamo visto soprattutto i mafiosi temere tutto questo e rendersi conto che dove siamo riusciti a costruire davvero la realtà di aziende che funzionano, ricominciano appunto a produrre, ricominciano la rete di commercio e di relazioni che sta nei criteri produttivi e noi abbiamo visto veramente la prospettiva della democrazia rifiorire perché la democrazia non può essere fatta soltanto di ideali ma ideali che si concretizzano e la lotta alle mafie si fa se riusciamo a essere totalmente alternativi alle loro logiche. Alle cooperative sono questo meraviglioso passaggio per cui ci si rende conto che non sono loro a garantire lavoro, dignità, sicurezza, ma è la collettività e se lo Stato non recupera questo senso della collettività beh, ho paura che non si vada da nessuna parte. Appello alla partecipazione arriva anche dal mondo della finanza etica. La Banca Etica propone un modello di partecipazione dei cittadini, innanzitutto la finanza e i meccanismi finanziari. Oggi la finanza diciamo ci dà delle possibilità di mutualità che forse non ci aspettiamo nel sapere dove vanno a finire i nostri soldi e come vengono utilizzati. E poi anche di partecipazione proprio nell'evitare le problematiche connesse alle corruzioni e alle mafie intervenendo, facendo quello che come cittadini possiamo fare. Sicuramente il meccanismo dei beni confiscati dalla mafia è un meccanismo per fare cultura, per cambiare la mentalità mafiosa. Il compito della Banca è quello di essere vicino a delle realtà che molto spesso non vengono finanziate dal sistema finanziario tradizionale e di fatto siamo tra le banche in Italia che maggiormente finanziamo le cooperative. Abbiamo anche costituito insieme alla Fondazione Interesse Uomo, che è una fondazione anti-usura legata a Libera, un fondo per le start-up giovanili proprio per cercare di, un fondo di garanzia in questo caso, proprio per cercare di aiutare le cooperative nascenti. Diciamo che su questo si avrebbe bisogno di un pochino più di attenzione, di attenzione da parte del pubblico, della collettività. Ecco, anche su questo si può fare o con meccanismi privati, in cui i cittadini contribuiscono a dare risorse per garantire i progetti che si fanno nei beni confiscati, oppure con risorse pubbliche. Però di nuovo passiamo attraverso la partecipazione. Non possiamo pensare che se non siamo attenti e non interagiamo con queste esperienze, beh, qualcun altro lo farà per noi. Dobbiamo farlo noi come cittadini. Ogni anno le mafie rubano quasi 3.000 euro ad ogni cittadino italiano. Un furto da 170 miliardi che inquina la nostra economia e frena lo sviluppo del paese. Come si ferma questo crimine? Attraverso la confisca dei beni, sconfiggere le mafie è possibile, ma è necessario rendere produttivi i beni confiscati e tutelare i lavoratori. La CGL, insieme ad altre associazioni come Libera, l'Arci, Avviso Pubblico e altre, è stata nel comitato promotore della proposta di legge Io riattivo il lavoro, che ormai è addirittura d'arrivo. Stiamo infatti sollecitando una calendarizzazione veloce dei lavori al Senato per l'approvazione del codice antimafia, che include moltissime delle proposte che in quel disegno di legge sul quale sono state raccolte centinaia di migliaia di firme, la CGL aveva elaborato per tutelare il lavoro e i lavoratori delle aziende confiscate, prima sequestrate e poi confiscate, proprio per evitare che l'intervento dello Stato, quando arriva, sia vissuto come qualcosa che determina la perdita del lavoro. Infatti ad oggi non esistono meccanismi di tutela che facciano in modo che gli stessi lavoratori, molto spesso loro malgrado, si trovino coinvolti in queste vicende di sequestro e poi di confisca senza avere alcuno strumento che gli consenta di mantenere la loro occupazione. Spesso si tratta infatti di aziende che possono proseguire la loro attività e possono essere immesse in un circuito virtuoso di produzione di profitti e quindi anche di lavoro. Siamo convinti che dove c'è la contrattazione, dove c'è il lavoro, ci sia anche la legalità. Per questo siamo coinvolti a pieno titolo in tutte le attività dell'antimafia sociale, a partire dalla tutela del lavoro che è il nostro scopo principale.